Registrazione video 4K da Samsung Galaxy S8 Plus dotato di stabilizzazione ottica dell'immagine più stabilizzazione elettronica dell'immagine anche quando registriamo in 4K quello era uno zoom 8x questo è il movimento rapido cambio di luce, cambio di messa a fuoco devo dire sia veloce che anche fluido nel passaggio di nuovo all'infinito registrazione video 4K Samsung Galaxy S8 Plus vediamo che sta usando il suo 80x faccio vedere l'80x wow aspetta perché era il mio ruffo com'è ambiguo questo è Giuseppe che sta cercando di mettere l'app method su un launcher alternativo senza riuscirci questo invece è Lore che fa i giochini e anche il compleanno di Lore tanti auguri Lore bello, c'era il telefono bianco questo è Nicola che scopre se le mappe se le mappe si possono scaricare ancora di più di prima si possono sono passata la fotocamera frontale e questo è Nicola che sta per mangiare lo faccio vedere dalla fotocamera frontale in 2K stiamo aspettando stava per ah ma non c'era la stessa soia? si si è qui dietro è un momento di grande tensione però stiamo tutti aspettando è un momento importante per Nicola che mangia ci vuole il video in 4K eccoci sembra male non c'era il tuo assorto pensavamo che tu fossi una persona esperta hai ragione e invece vedi questi bacchettini sono ultra leggere questo demo video non doveva durare 3 ore doveva concludersi con te che mangiare è un casa smart order e ciao eccoci eccoci